Buona giornata, buon viaggio, Movaresi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Partiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, ci sono lavori rallentamenti tra il raccordo per la 12, la Giannava-Rosegnano e l'allacciamento con la Fipili in direzione di Livorno. Un veicolo in avaria sulla 1 tra Chiusi-Chianciano e Val di Chiana in direzione di Firenze. È un mezzo pesante, è un pullman in avaria. Passiamo alle statali, sulla Tosco-Romagnola, ci sono lavori tra incrocio Sieci e prima di Rufina, lavori in entrambe le direzioni. Passiamo dal raccordo Siena-Firenze, chiusa una corsia per lavori tra San Gimignanello e lo svincolo Serre di Rapolano. Continuano i lavori sulla Aurelia, lavori prima dell'incrocio di Cecina-Centro in direzione Nord. È tutto, Movaresi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi. Grazie. Grazie.